Bella raga oggi circuitino addominali 5 minuti forse 5 minuti e 20 secondi devastante tutto in plank quindi preparatevi perché oggi vi rompo il culo partiamo timer subito in plank allora come si fa il plank così che si possa fare anche se si è dei principianti allora punte dei piedi unite gambe unite culo bello sodo ok cerco di intra ruotare il bacino stringo l'addome e mi appoggio sui gomiti braccia unite mani unite come cazzo vi pare l'importante è che restate su seconda variante punte sulle punte guardate bene come sto lavorando adesso perché perché cambia il focus sull'addome abbiamo fatto i primi 30 secondi classici adesso facciamo i secondi 30 secondi sulle punte sulle punte andiamo a colpire l'addome da varie angolazioni oggi raga sto faticando tanto vi dico la verità perché fa caldo sono sotto al sole ma mi voglio abbrunzare e quindi continuiamo con il terzo questa volta plank sulle braccia sulle braccia anche questo è molto effettivo come esercizio adesso io guardo in cam per guardare voi ma voi non lo fate altrimenti storcete la colonna quindi mi raccomando guardate giù non davanti guardate giù cerca di tenere la testa in linea con la colonna dai che mancano 5 secondi e ci prendiamo i nostri secondi di recupero quanti? pochi ragazzi 10 secondi e si riparte adesso un braccio su partiamo col braccio sinistro poi indovinate che facciamo? lo andiamo ad alternare quindi nuovo in plank un braccio su cosa succede? e raga succede che stiamo andando a colpire l'addome da un'angolazione diversa perché ci stiamo sbilanciando e stiamo andando a lavorare dando uno stimolo diverso mancano 10 secondi e poi indovinate che facciamo? avete indovinato? bene cambiamo il nostro braccio 3 2 1 andiamo lo sentite come cambia il focus raga sull'addome? stiamo colpendo l'addome con uno stimolo diverso cercate il più possibile di rimanere in linea ovviamente un po' di sbilanciamento raga è normale ci stiamo sbilanciando apposta però cercate di rimanere più in linea possibile dai che mancano 10 secondi dai 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 sto faticando anch'io raga sto faticando anch'io 5 4 3 2 1 recuperiamo un attimo e adesso facciamo la stessa cosa facciamo la stessa cosa con le gambe perché anche con le gambe possiamo dare uno stimolo diverso sul nostro retto addominale quindi una gamba su raga qui se c'è qualche donna fra voi anche se dubito non sa perché mai io attrago i uomini comunque se riflessioni filosofiche se tirate sulla gamba cosa succede? succede che diamo anche un po' di lavoro sui femorali e sul gluteo quindi focus completamente diverso e l'altra gamba comunque fatica a restare su cambiamola perché sono passati 30 secondi facciamo altri 30 secondi e siete contenti perché ci prendiamo 10 secondi di recupero ma non adesso tra 20 secondi dai 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 che poi manca soltanto un'ultima variante dopo questi 10 secondi di recupero che ci prendiamo e siamo pronti per fare per fare colazione io devo ancora fare colazione oggi 2 1 giù cazzo li sto accusando adesso ultima variante laterale perché? perché andiamo a colpire l'addome con un'altra variante dai parto così vi do le spalle così concludo guardando in viso allora raga vedo tanti farlo così no su sul bacino su piede su piede potete farlo anche così eh però io preferisco piede su piede siete più dritti braccio su e petto in fuori ci appoggiamo sul gomito cazzuti mancano 10 secondi e abbiamo colpito anche la fascia laterale destra e adesso i filosofi del allenamento diranno cambiamo eh cambiamo lato adesso vi guardo in viso e concludiamo insieme diranno ma non esiste l'addome laterale cazzate raga esiste il gran dentato se andate a studiare l'anatomia sapete che esiste il gran dentato e non è un caso che tanti atleti ad esempio atleti di natural bodybuilding vanno a lavorare sul dentato laterale ridendo e scherzando mancano 5 secondi io ne approfitto per farvi i complimenti per aver portato a termine questo super circuito e vi auguro una super buona giornata io non vedo l'ora di fare colazione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao